Un nuovo anno di cassa integrazione straordinaria per la Pernigotti, con ripartenza della produzione in vista del Natale. Arrivano buone notizie sul fronte dell'azienda dolciaria di Novi Ligure, con il Ministero del Lavoro che nel corso di una riunione da poco conclusa ha rinnovato gli ammortizzatori sociali scaduti lo scorso 30 giugno e quindi ripartiti ora in continuità con la cassa precedente in data 1 luglio. Un'ottima notizia per i lavoratori e per i sindacati, che hanno espresso la propria soddisfazione per il buon esito dell'incontro al quale hanno partecipato in videoconferenza. Un altro passaggio fondamentale per lo storico marchio locale del cioccolato, passato intanto di proprietà dai turchi della Toxos all'Einstone, società del colosso statunitense JP Morgan, che in passato aveva già inglobato la Valcor di Cremona. E sarà proprio l'azienda Lombarda, un'alleata importante della Pernigotti in questa fase di ripartenza, con l'amministratore delegato Attilio Capuano, che dovrà guidare il brand Alessandrino verso un ritorno agli antichi fasti. In prospettiva del Natale, in Lombardia verranno prodotti gli ovetti a marchio per Nigotti, mentre a Novi verrà realizzato il resto della produzione, ovvero creme spalmabili, cremini e gianduiotti, in modo da garantire il tanto atteso ritorno sugli scaffali dei supermercati. Soddisfazione ovviamente condivisa anche dai lavoratori, che ormai vedono il peggio alle spalle e che possono guardare al futuro con maggiore ottimismo. L'ultima tappa per la chiusura ufficiale del cerchio è prevista per il 30 settembre, quando verrà sancito il closing delle trattative per il passaggio delle quote ai nuovi proprietari, i quali aggiungeranno un 10% in più rispetto ai circa 4 milioni che sarebbero dovuti arrivare in precedenza dai Toxos per rilanciare lo stabilimento cittadino.